Buongiorno a tutti, mi presento, sono Fabio Bottarelli, Product Manager e Business Development Manager di Camozzi Automation. Quello che vi vado a presentare oggi è un progetto che ha visto la collaborazione di due entità. Un'entità che riguarda la ricerca, quindi che ha permesso di mettere sul tavolo competenze di alto livello tecnologiche, quindi accedere a delle tecnologie che ancora non erano presenti sul mercato, e un'entità che è legata al mondo industriale, cioè Camozzi, che quindi ha potuto mettere sul tavolo le competenze legate alla conoscenza del mercato e alla conoscenza di ciò che può servire a quelli che sono poi gli utilizzatori finali di questi componenti. E che cosa abbiamo fatto? Per capire bene il processo che ci ha portato ad ottenere questa pinza pneumatica intelligente, che vedremo bene dopo, dobbiamo partire da qua. Ci siamo detti, dobbiamo sviluppare un qualche cosa di molto avanzato, una pinza avanzata, e ci siamo detti qual è la pinza che oggi c'è e che è la migliore, che funziona meglio, la più flessibile? La mano. Quindi tutto quello che noi abbiamo cercato di inserire all'interno di questa pinza è arrivato dall'osservazione di quello che fa una mano. Se noi stiamo bene attenti, le mani sono in grado di fare tante cose, per esempio possono sentire le forme, sentire le durezze, possono fare delle stime di misura, sarà lungo 10 centimetri, una spanna, possono addirittura, volendo, fare delle stime di temperatura. Quando non ci sentiamo bene, la prima cosa che facciamo è che mettiamo la mano alla fronte e sentiamo se siamo caldi. Le mani comunicano. Io sono un po' presuntuoso e sono sicuro che alla fine di questa mia presentazione tutti voi mi farete pollice su, il che vuol dire che mi state comunicando che la presentazione è data bene. Quindi attorno a tutte queste funzionalità che ha una mano abbiamo basato i requisiti per lo sviluppo della pinza pneumatica che vi vado ad illustrare. E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto questo. Qualcuno subito vedendola potrebbe dirmi Vabbè, Fabio, ci hai fatto un bel discorsetto sulla mano, 5 dita e adesso mi presenti una pinza parallela a 2 dita. Allora, il concetto di fondo è questo. I brevetti, e ce ne sono 4 dietro a questo oggetto, non sono innovazione. Le tecnologie non sono innovazione, lo diventano quando qualcuno utilizza questi brevetti e queste tecnologie. E oggi per poter essere utilizzati devono avere ancora questo form factor, cioè della pinza più utilizzata oggi in ambito industriale, cioè la pinza parallela a 2 dita. E questo è quello che ci ha guidato verso, diciamo, questo concetto. In più qualcun altro potrebbe aver letto prima pinza pneumatica. Ci stai dicendo che è una pinza che deve fare tante cose, come fai a farlo con l'aria? Beh, ci sono le pinze elettriche per esempio. In realtà, allora, Camozzi è, diciamo, uno dei leader internazionali nel mondo dell'automazione pneumatica. E l'obiettivo di questo progetto non era solo ottenere una pinza, ma sviluppare delle tecnologie, tra cui algoritmi di controllo del flusso dell'aria, algoritmi di controllo della pressione e altre tecnologie che possono un domani essere spese su altri prodotti. Faccio un esempio. Questa è una pinza che, come vediamo qua, rappresentato, integra tante cose. Integra sensoristica, integra sistemi di comunicazione, ha un'intelligenza, perché l'intelligenza è integrata. Ha il controllo integrato, le valvole sono integrate. Per controllare queste valvole dobbiamo lavorare attraverso la tecnologia proporzionale. E la tecnologia proporzionale è universale, trasversale sui prodotti. Possiamo ottenere delle valvole, possiamo ottenere dei regolatori di flusso, di pressione. Quindi l'obiettivo non era solo ottenere un prodotto, ma ottenere delle tecnologie che possono essere spese anche su altri prodotti. Vediamo che cosa fa questa pinza. Ci piace chiamarla la pinza dai cinque sensi. Proprio perché, come dicevo, sono stati integrati sensori, per esempio, che gli permettono di vedere. Vedere in che modo? La pinza è in grado di riconoscere se è arrivata la postazione in cui deve prelevare il pezzo, il pezzo è presente o meno. La pinza è in grado di vedere se durante il movimento o in attesa di dover fare un movimento, ovviamente attraverso un robot o un sistema di movimento simile a un cartesiano o un gantry, se c'è qualche oggetto che le sta andando contro. Quindi riusciamo a intervenire prima che il contatto di questo oggetto avvenga con la pinza o con il robot. La pinza, dicevo, ha un'intelligenza, quindi grazie ai dati che acquisisce dai sensori, è in grado di elaborare degli output e dare proprio degli output. In che modo? La pinza è in grado di fare un controllo di forza. Controllo di forza semplice ad anello aperto, per controlli di forza medio-precisi, controllo di forza ad anello chiuso, quindi io so esattamente la forza che sto sviluppando e riesco ad intervenire nel PID di controllo della pressione per incrementare ulteriormente la precisione. Parliamo di capacità di regolare la forza ed essere precisi nell'ordine del Newton. La pinza è in grado di fare posizionamenti, quindi io le dita riesco a posizionarle con estrema precisione dove voglio, per inserirmi all'interno di fessure, per esempio perché un pezzo per essere preso devo entrare all'interno di fessure, oppure evitare di aprire tutte le volte le dita e perdere tempo e quindi aprirmi solo quello che basta per poter afferrare un pezzo. La pinza è in grado ovviamente di controllare la velocità, una volta che si controlla il flusso dell'aria si è in grado di controllare la velocità, quindi anche di gestire la velocità con cui mi muovo. Grazie al fatto a un brevetto che noi abbiamo sulle valvole che sono integrate in questa pinza, siamo in grado, leggendo il comportamento della valvola, di prevedere il comportamento della pinza, quindi di prevedere eventuali, che non ci saranno mai, failures sulla pinza o comunque dei cambiamenti di stato, dei cambiamenti di performance e intervenire prima di avere un fermo macchina o che un incidente avvenga. La pinza è in grado di ricevere attraverso dei dispositivi, dei sensori, che sono sensori che le permettono di vedere, ma ci permettono anche di utilizzarla, di dare dei comandi. Sono dei sensori che possiamo sfruttare come se fossero dei tasti, ci permette di programmare delle funzioni e a fronte della combinazione che io vado a premere, o comunque a coprire con la combinazione con cui io copro i sensori, riesco a far fare alla pinza o addirittura al robot, quindi al sistema che sta dietro, dei movimenti, delle funzionalità, dei cambiamenti di stato. La pinza dicevo percepisce, percepisce perché una volta che noi prendiamo il pezzo siamo in grado di misurarne il peso. La stessa cosa possiamo fare con la misura della dimensione, quindi prendo un oggetto ovviamente non deformabile, metallico per esempio, e io riesco a misurare la dimensione. Dobbiamo vederla in questo modo, non sto facendo una misura di peso attraverso una bilancia di precisione, non sto facendo una misura di dimensione attraverso una macchina di misura coordinate, sto facendo un controllo di processo, non sto facendo un controllo di qualità, ma sto facendo un controllo di processo. Faccio un esempio, ho un oggetto che devo lubrificare, queste sono applicazioni vere che abbiamo affrontato con i nostri clienti, devo lubrificare un oggetto, lo devo pesare, lo porto al lubrificatore, lo lubrifico, lo metto su un'altra bilancia e faccio la differenza per poter capire se ho messo la quantità giusta, perché i sistemi di dosaggio non sono molto precisi e in questo caso serve una precisione di lettura del peso. Con questa pinza accelero il processo, perché ovviamente evito di pesarlo, perché come lo prendo lo sto pesando, lo metto al lubrificatore, lo riprendo, l'ho già ripesato e ho fatto la differenza. La precisione della lettura del peso non è elevata, ma è molto ripetibile. Nel momento in cui è molto ripetibile, io riesco a fare dei controlli di processo molto precisi. Un altro esempio, machine tending, carico-scarico macchina utensile, visto che siamo al BIMU e è centrata come applicazione. Nel momento in cui io tolgo i pezzi dalla macchina, sono in grado di andare a rilevare la quota che ho lavorato. Questo non mi permette di dire se è intolleranza o meno, ma fatto su tutti i pezzi mi permette di capire come il processo sta deviando. Se devo intervenire, cambiando gli utensili, cambiando alcuni settaggi della macchina, le velocità, quindi controlli di processo. La pinza inoltre connette, connette in tanti modi. Dal punto di vista meccanico, la connessione è una connessione meccanica a tutte le tipologie di sistemi, partendo dai robot collaborativi, ai robot industriali, ai sistemi di movimentazione lineare, elettrici o pneumatici, gentri, quindi siamo in grado di poterla connettere meccanicamente a tutto. Dal punto di vista della comunicazione, altrettanto. In due modi. Per ogni tipologia di robot a cui ci vogliamo connettere, andiamo a sviluppare l'interfaccia. Quindi io dal robot posso programmare la pinza, e la pinza può dare output al robot, o input per il robot, e può anche comunicare dando dei comandi. In più, io posso, non volendo collegarmi direttamente al polso del robot, posso collegarmi ad un PLC esterno, ad un dispositivo terzo che magari governa anche il robot. Inoltre, comunica in che modo anche? Attraverso una connessione Wi-Fi. Tutto ciò che può essere comandi che devo dare alla pinza per il processo che sto eseguendo, quindi apri, chiudi, apri leggermente, li posso dare attraverso il bus di campo del robot, o attraverso il bus di campo che è la base del PLC. Ma quella parte di informazioni che la pinza raccoglie, la misura che ho eseguito sul pezzo, il peso del pezzo che ho prelevato, il fatto di avere della pressione che sto utilizzando, della forza che sto utilizzando, li posso comunicare ad un'entità esterna attraverso una connessione Wi-Fi. La pinza inoltre è dotata di un sistema NFC, quindi posso utilizzare anche quello per far che cosa? Possono esserci applicazioni in cui devo utilizzare più di una pinza, e magari l'applicazione è la stessa, sono più linee. Settata una pinza, io posso prelevare il settaggio da una pinza attraverso un qualsiasi dispositivo mobile e andare ad inserirlo direttamente su un'altra pinza, in fase di manutenzione. Dopo molti anni andrò a cambiare la pinza, prendo il settaggio e in pochi secondi lo vado a mettere sulla nuova pinza. Questi sono tutti degli esempi che ci portano a dire che non abbiamo voluto sviluppare un prodotto, ma abbiamo voluto sviluppare una piattaforma tecnologica che un domani, oltre a portarci ad avere un oggetto chiamato pinza pneumatica intelligente, ci porterà ad avere anche altri componenti. non è un prodotto, nel senso non è del metallo lavorato o un qualche sistema di movimentazione, qualche guarnizione. Non è nemmeno solo una soluzione, perché le soluzioni oggi sono risposte a dei problemi. Lo è. Quindi quello lo è, ma non è solo quello. Che cos'è un prodotto di questo tipo? È un vantaggio, perché noi non entriamo solo su applicazioni in cui c'è da risolvere un problema, non so come misurare il pezzo o come pesare il pezzo, quindi tu mi hai dato la soluzione ma hai risolto un problema. Questa è solo una parte. L'altra parte è, ci sono linee, ci sono macchine, ci sono impianti che già funzionano bene. Con questo dispositivo siamo in grado di farli funzionare meglio. In che modo? Andando più veloci, avendo maggior sicurezza, diminuendo quindi i tempi ciclo, facendo controlli di processo molto più fini e dettagliati. Questo è un po' il concetto base che c'è dietro a questa pinza. Sfrutto gli ultimi secondi per farvi vedere degli esempi in cui vado a fare un controllo di velocità e nello stesso momento in cui ho il contatto con l'oggetto vado in controllo di forza con due newton. Sto prendendo questo uovo con due newton per non romperlo. Questo è un esempio in cui invece prendo un pezzo e come lo sollevo vado a misurarne il peso. Comparirà adesso, in questo caso, a pannello robot il peso dell'oggetto. Un altro esempio. Devo andare a prelevare questo oggetto in acciaio che è presente. Quindi la pinza e il robot vanno avanti con il loro ciclo naturale. Nella situazione dopo abbiamo tolto l'oggetto. La pinza lo riconosce e in questo caso abbiamo detto fermati e che dobbiamo intervenire. qui come la pinza va prima in modo flessibile a posizionarsi per poter entrare all'interno delle fessure e quindi a poter prendere il pezzo. Adesso vi faccio vedere una funzionalità di cui non ho parlato che è l'antiscivolamento. La pinza è in grado durante il movimento del robot di capire se il pezzo scivola. Qui vedete che la pinza prende l'oggetto. La funzione non è attivata. Il robot accelera quindi dà un'inerzia importante all'oggetto e per il fatto che la stavano tenendo con una forza limitata il pezzo cade. Qui invece la funzione è attivata. Stesse condizioni di lavoro la pinza si accorge comincia a blinkare perché dà un segnale aumenta la forza la mette in sicurezza e comunica al sistema che sta dietro che un evento è successo qualche cosa. Qua vediamo invece la funzionalità delle gesture quindi io andando a coprire questi sensori sono in grado di attivare la funzione free drive del robot e poter fare dei posizionamenti e come li lascia il robot rientra nella sua funzionalità frenata. È tutto io vi invito al nostro stand qui in questo padiglione che è lo stand D13 per un caffè e per poter parlare delle funzionalità della pinza.